Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornati in un nuovo blog allora, vi registrerò una casa che ho creato in un altro server intanto vi faccio salutare un mio amico, scrivi pure non so se si vedrà ma spero di si ok, perfetto, si chiama Stefano, ciao allora adesso vi faccio vedere, adesso vi faccio vedere anche il fatto che ho una nuova skin e vi faccio vedere il fatto che ho trovato i fiori rosa, quelli della nuova generazione poi ho un alveare, completamente a caso, che mi si è generato un paio di giorni fa e poi ho trovato tutti gli altri alberi, se ne ho un quintale e questa è casa mia, ovviamente vi avviso che tutti gli altri piani sono ancora vuoti perché non so cosa metterci attualmente allora per esempio uno è questo, l'altro è vuoto quest'altro è vuoto per esempio anche questo poi, ah e adesso poi ci do lo scheletro e vi faccio vedere anche una cosa fighissima della nuova generazione aspettate un secondo che spero di non far esplodere casa possibilmente e vi faccio vedere anche che ho 60 cuori di vita ma 60 veramente, non ho fatto niente praticamente, aspettate un secondo arrivo e voilà, ce l'ho fatta e adesso qua c'ho lo zaino e vi faccio vedere la spada che io ah intanto devo anche prendere questo scusatemi, sono un secondo ho sbagliato di nuovo come al solito perché faccio sempre dei danni questa è la spada che come aspettate un secondo che è la spada del guerriero che attualmente non fa tanto danno ma vabbè l'ho ricevuta da poco e questa è la spada che attualmente ho però io non la uso mai perché ho avuto una piccola sfiga come al solito, scusate la parola e questo qua è il tetto vi chiederete, non ho fatto nessun tetto particolare l'ho fatta tutta quadrata perché volevo provare a vedere se mi poteva piacere e mi piace molto come struttura e tutto e vabbè questa è casa mia ovviamente negli altri piani vi avviso che non c'è l'ho detto, non c'è quasi nulla perché la sto ancora un po' modellando infatti per esempio qua che aspettate un secondo che c'è un altro un altro problemino come al solito perché ok eccomi e per farvi capire questa è la spada che attualmente ho vabbè aspettate un secondo che vi faccio salutare salutate e vabbè ok ci siamo oltre quello io adesso sto parlando anche su Discord ma vabbè adesso questo è il primo piano che attualmente è quello più rivestito adesso la spada la rimetto dentro lo zaino prima che mi accade qualcosa e vabbè questa è la casa mia e adesso poi ovviamente la modificherò il tutto e vi faccio vedere anche la mia nuova skin mi piace? a me piace molto perché mi piacciono molto i contrasti del colore allora io vi saluto e aspettate mi metto così ecco e adesso io chiudo il video e spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate like iscrivetevi al canale se volete avere altri video del genere si vi faccio vedere anche la parma adesso si è un po' streaming site ve lo dico ma l'ho creata da pochissimo perché ci sono andata praticamente ieri in questo server che praticamente si chiama aspettate che ve lo dico con esattezza regno di zeal si perché è fighissimo praticamente puoi scegliere tra quattro classi tra cui la cere il guerriero quello che ho scelto io l'assassino e il mago e vabbè adesso vabbè farò le solite cose cercherò di farmare un po' anche perché non ho ancora diamanti ne niente praticamente sono molto povera però vabbè adesso cercherò pian piano di rimettermi in sesto anche perché in My Vanilla non posso entrarci perché ho la mod no ho la mod di di avere lo zaino e quindi non posso entrare e vabbè io e Stefano vi salutiamo noi ci vediamo domani o quando voglio con un muissimo video ciao